Tanto è stato detto sulle lotte fra Padre Pio e il demonio, ma Padre Pio, il santo di Pietrelcina, ebbe anche dei nemici terreni. Di loro vogliamo parlare, ma soprattutto di chi è stato in grado di difendere Padre Pio da quei nemici. Lo vogliamo fare con Roberto Allegri, a cui diamo il buongiorno nel nostro studio, giornalista e scrittore e autore, insieme a Renzo Allegri, il padre dei moschettieri di Padre Pio, edito da Ancora. Allora, conosciamo insieme questi che definisci moschettieri. Tre persone, varie persone, ma tre in particolare, che ebbero modo di stare accanto a Padre Pio e di difendere la sua reputazione dalle maldicenze, da ciò che accadeva all'epoca, perché appunto ebbe dei detrattori. Si tratta di Francesco Morcaldi, Emanuele Brunatto e Giuseppe Pagnossin. Chi erano? Questi erano figli spirituali di Padre Pio, persone che non erano stinchi di santo, erano persone normali, che però da Padre Pio avevano avuto la vita completamente cambiata. E dal momento che in quel periodo, negli anni 20 e poi anche di nuovo negli anni 60, Padre Pio era nelle mire del santo uffizio con condanne, perché noi dobbiamo ricordare che una delle particolarità di Padre Pio è che un santo, forse uno dei più amati al mondo, ma che è morto con condanne del santo uffizio mai ritirate. Quindi penso che sia l'unico caso nella storia. E a quel tempo, quello che diceva il santo uffizio, tutto il mondo cattolico non osava contraddirlo, era una forza potentissima. Nessuno in quel periodo, soprattutto negli anni 20, quando arrivarono queste prime condanne, osarono alzarsi e difendere Padre Pio in maniera ufficiale. Tutto il mondo cattolico, anche lo stesso Papa non poteva dirlo, che uno dei papi che simpatizzavano per Padre Pio, poi ci furono anche quelli che erano un pochino contrari, ma quelli che simpatizzavano per Padre Pio non potevano farli in maniera pubblica. Gli unici che invece si ersero a difensori di Padre Pio mettendoci la faccia, mettendoci soldi, energie, furono queste persone comuni che noi abbiamo definito moschettieri. Ed erano persone normali, con un passato a volte poco chiaro, persone che in contatto con Padre Pio si innamorarono e fecero di tutto per difenderlo, per portare alla luce la verità. Perché le condanne che il Santo Ufficio aveva espresso contro Padre Pio si basavano su calunnie, su bugie, su falsità. E loro fecero di tutto, fecero proprio un lavoro di intelligence per far emergere la verità. Tanto è vero che poi lo stesso Santo Ufficio dovete fare marcia indietro. Persone che, come hai sottolineato, non appartenevano al mondo, non erano dei teologi, erano persone comuni, ma con una vita trasformata. Vediamoli più nello specifico. Francesco Morcaldi chi era? Francesco Morcaldi era del 1889, quindi era più o meno, aveva la stessa età di Padre Pio. Padre Pio era del 1887, era originario di San Giovanni Rotondo ed era, quando è tornato dalla guerra, era un eroe di guerra, ma molto travagliato. Era una persona che aveva sofferto moltissimo perché in quel periodo con la febbre spagnola aveva perso praticamente tutta la sua famiglia e trovò in Padre Pio inaspettatamente un padre. Quindi lui che aveva perso suo padre proprio per questa malattia, trovò in Padre Pio un genitore e gli fu vicino in quel periodo perché, soprattutto, qual era lo scopo di Morcaldi, chiamiamolo così, in quel periodo c'era la riceria, che erano fatti questi, che il Vaticano aveva dato l'ordine di portare via Padre Pio. Intorno dal 1919 in poi, quando le stimmate divennero pubbliche, perché ci fu un articolo sui quotidiani, le masse di pellegrini cominciarono ad arrivare a San Giovanni Rotondo per vedere questo frate che portava i segni della passione di Cristo su di sé, c'era l'ordine del Vaticano di portare via Padre Pio. Apro una piccola parentesi che vi ho detto prima, se non ci fossero stati i moschettieri, noi di Padre Pio oggi non sapremmo nulla, proprio perché c'erano le disposizioni di portarlo via da San Giovanni Rotondo, portarlo all'estero, probabilmente in un eremo, e di lui non si sarebbe saputo più nulla. Come arrivava la voce che c'era anche soltanto uno straniero che arrivava in paese, tutti i cittadini di San Giovanni Rotondo prestigliavano il convento, addirittura con i fucili in mano, perché tutti volevano bene a Padre Pio. Morcaldi che cosa faceva? Sapeva che queste prese di posizioni di pancia del popolo potevano nuocere a Padre Pio, faceva da intermediario, quindi difese Padre Pio in quel periodo facendo da pacere tra il popolo che invece avrebbe fatto qualsiasi cosa per non farsi portare via il loro santo e difendere in questo modo Padre Pio. Poi Morcaldi invece successivamente collaborò attivamente con Brunatto, che anche questo è una figura straordinaria, forse il difensore più eccezionale. Perché? Perché lui aveva un passato, aveva fatto un po' di tutto, era un mezzo contrabbandiere, aveva anche fatto delle attività poco lecite, insomma era un personaggio che guadagnava, perdeva, guadagnava Non uno stinco di santo. Non uno stinco di santo. Conove Padre Pio nel 19 mi sembra o nel 20, insomma si innamorò perdutamente perché gli fece toccare con quelle mani Dio. Ne abbiamo nominati due, nominiamo anche Pagnossin. Pagnossin poi quello invece è Conove Padre Pio negli anni 50 ed è quello che poi difese Padre Pio nella seconda persecuzione, quella degli anni 60, forse una delle più terribili perché Padre Pio era anziano. Pensagli, veniva accusato di avere rapporti sessuali con le ragazze, di fare festini, orge, aveva quasi 80 anni. Di quelle cose hanno detto su Padre Pio in quel periodo, terrificanti a scorrerle nel libro. Abbiamo fatto un elenco delle accuse che si facevano a Padre Pio, che venivano anche da altri prelati, delle cose inaudite. Roberto, perché di questi tre moschettieri, questi che appunto definite tre moschettieri, non sappiamo nulla. Perché non sono nomi che sono rimasti nella storia e ci ha voluto il lavoro tuo e di tuo padre per, come dire, non solo definire i moschettieri, ma anche per rendere nota a tutti il loro ruolo nel far conoscere Padre Pio. Sono sempre stati scomodi perché nelle biografie di Padre Pio vengono citati, però in genere, così un po' velocemente, noi abbiamo voluto che fossero protagonisti di una narrazione perché secondo noi se lo meritano. Erano scomodi perché sono andati contro le disposizioni del massimo tribunale ecclesiastico, il Sant'Uffizio. Cioè erano addirittura, erano ritenuti pericolosi, brunatto, faceva paura al Sant'Uffizio. Perché lui poi, quello che lui fece fu radunare con un lavoro incredibile, documenti su documenti, aveva un archivio sterminato che smascherava non solo le calunnie contro Padre Pio, ma anche smascherava chi queste calunnie le mandava con queste lettere al Sant'Uffizio. Ed erano tutte persone, comprese persone del clero, che vivevano in una maniera immorale. E lui aveva tutti i documenti che lo provavano. Quindi era ritenuto veramente, avevano paura di lui. Roberto, a fianco a te c'è una poltrona vuota, la riempiamo subito. Diamo il buongiorno a Fra Carlo Calloni, postulatore generale dell'Ordine dei Frati Mianori Cappuccini. Buongiorno, benvenuto. Fra Carlo, abbiamo sentito il panorama in cui hanno agito i moschettieri, ma era il panorama che ha investito Padre Pio di tutta una serie di calunnie, di cerie, e faceva parte anche della Chiesa. Come mai parte della Chiesa era contro Padre Pio? Possiamo dire che abbiamo bisogno sempre di purificarci. E questo può essere un modo anche per purificare i Santi, perché possano davvero trovare quella strada unica in cui la loro adesione alla fede e in Gesù Cristo sia sempre più brillante. Lo dice anche nei Salmi, il giusto viene provato nel crogiolo, quindi con il fuoco. Ecco, credo che questo, se viene ad essere compreso all'interno del grande mistero dell'amore di Dio, anche questo può essere il mezzo attraverso il quale giungiamo davvero a entrare in una verità semplice, pura, che non ha bisogno davvero di contestazioni o di rivoluzioni, ma viene accolta come gesto di vera adesione e di riconoscimento che l'amore di Dio è vero. È stato tutto superato o oggi, nel 2024, resiste ancora qualcosa? Tutto è stato superato. Se lei si ricorda, c'è stato il grande giubileo della misericordia, in cui le spoglie di Padre Pio e di San Leopoldo Mandic sono entrate in maniera triunfale nella Basilica di San Pietro. E l'allora Cardinale Comastri mi sussurrò nelle orecchie ecco, questa è la vera glorificazione di Padre Pio, perché, come dire, il Santo Padre scese due volte in quei giorni in cui i resti mortali di Padre Pio e di San Leopoldo furono nella Basilica di San Pietro, scese due volte a pregare accanto a queste reliquie. Credo che questo sia il gesto che pone fine a questa querea, no? Su cosa si basavano all'epoca le calunnie, le maldicenze? Su che cosa facevano l'Eva, Fra Carlo? Allora, possiamo dire che il cuore dell'uomo, il Papa ieri ha firmato un'enciclica sul cuore di Gesù Cristo, e il cuore dell'uomo molte volte viene ad essere, come dire, tradito da se stesso, no? Nel volere arrivare ad una dimensione che supera addirittura quella che è l'amore di Dio. E quindi credo che sia davvero questo il senso più profondo del male che può coinvolgere uomini e donne, no? Molte volte consapevolmente, tante volte invece inconsapevolmente. Fra Carlo, abbiamo sentito poco fa da Roberto anche una serie di... ha nominato proprio alcune di queste calunnie. Come venivano vissute da Padre Pio? Come reagiva? Padre Pio, ma anche nel libro di Roberto ci sono, Padre Pio ha sempre reagito in maniera molto semplice e molto calma. Tante volte è scritto nel libro che Padre Pio diceva a questi suoi uomini che volevano difenderlo, state calmi, si arriverà con pazienza, no? Non bisogna mai essere troppo forti in questo. Quindi ciò ci dice che Padre Pio era animato da una fiducia in Dio molto più grande che avrebbe vinto un mio padre spirituale. mi diceva, noi nella vita spirituale dobbiamo resistere perché uno ha già vinto, è Gesù Cristo, ma se noi resistiamo dietro di lui, vuol dire che vinciamo anche noi. Ma è lui il vittorioso. A proposito dei nemici di Padre Pio, stiamo parlando dei nemici terreni, ma c'è stata una lunga lotta di Padre Pio contro il nemico, contro il diavolo. E invece un amico anche vostro, ma anche di TV2000, Padre Marciano, che non c'è più, vogliamo ricordarlo attraverso alcune parole che ci disse proprio sulla lotta tra Padre Pio e il diavolo. Ascoltiamo. Padre Pio non è stato soltanto l'uomo di Dio che ha avuto sempre la mente verso l'alto, verso il cielo, è stato anche l'uomo che ha guardato per terra e ha visto le miserie della zona e quindi ha cercato di portare il sollievo. Ci sono state anche delle persone che hanno preso le distanze, hanno parlato male. E su questo dobbiamo dare una spiegazione, perché anche gli uomini della Chiesa hanno preso le distanze su Padre Pio. E allora ci domandiamo perché tutta questa avversione verso questo povero frate che se ne sta buono buono su di un monte roccioso, il Gargano. Non ci dimentichiamo che c'è una scena raccontata nell'epistolario di Padre Pio, in una lettera che Padre Pio scrive al suo confessore e dice che ha avuto una visita nobile, accogliente, piacevole, da parte del diavolo. Quindi non più il diavolo con le corne, gli zoccoli, eccetera, ma un bellissimo giovane che va da Padre Pio e gli fa una proposta. Io non ti darò più fastidio, da adesso in poi non ti darò più fastidio. Ha una condizione che tu potrai pregare per la salvezza della tua anima, ma non devi più pregare per la salvezza degli altri. E Padre Pio è chiaro che disse non è possibile, questo, non è possibile. Allora il demonio dice non accetti e allora nella tua vita ricordati che farò tanto di quel male che mente umana non puoi immaginare. Da questo noi dobbiamo capire perché l'avversione su Padre Pio. Fra Carlo, possiamo vedere in quei detrattori umani, fisici che ebbe Padre Pio in vita in qualche modo una concretizzazione di quella che era la sua lotta contro il demonio? Sicuramente come ricordava anche Padre Marciano in questo breve filmato, Padre Pio ha subito gli assalti del demonio. Le sue biografie ci dicono fin da piccolo, fin da quanto era bambino. Vessazioni del demonio che poi si tramuntavano anche in rumori molto forti, ma anche in battiture. Ci sono esempi certificati di Padre Pio che veniva proprio battuto in modo concreto dal demonio. E quindi se il demonio poteva fargli male anche fisicamente, certo poteva intervenire anche attraverso persone, personaggi, uomini, donne che erano a lui contrari. Proprio per il motivo che ha espresso Padre Marciano. Padre Pio lottava perché le anime fossero riportate a Dio o fossero nella condizione di aderire alla bontà e all'amore di Dio. E questo è il grande servizio e la grande opera che ha fatto Padre Pio. Indicarci che il demonio ci vuole portare via dal nostro destino, dalla nostra felicità, dal nostro essere nelle mani di Dio. O come diceva un mio confratello di Milano, quando incontrava la gente, diceva, ma tu lo sai che gli portavano le loro pene, ma tu lo sai che Dio ti vuole bene. Credo che questo sia oggi il messaggio più profondo. Dio ci vuole bene, non vuole farci provare dolori e fatiche, ma ci vuole bene. Roberto, forse parte di quel bene veniva concretizzato dalle persone che aiutavano Padre Pio, ossia quei moschettieri che danno il titolo al tuo libro. Padre Pio che rapporto aveva con i moschettieri? Ne parla, non ne parla? Lui era affezionatissimo, ma come diceva prima Padre Carlo, li rimproverava a volte. Padre Pio soffriva per le disposizioni contro di lui che venivano dal santo ufficio in maniera tremenda, perché ad un certo punto gli hanno anche impedito di dire messa davanti alla gente, doveva dirle nella cappella privata. Ad un certo punto gli hanno anche impedito di confessare e sappiamo che era la sua missione principale. Quindi lui soffriva moltissimo. Nelle memorie Brunato ha scritto molto chiaramente quanto piangeva poi Padre Pio in cella, finché era con i suoi confratelli resisteva. Da solo piangeva, soffriva moltissimo, ma aveva fatto voto di obbedienza. Quindi lui spesso rimproverava questi moschettieri, chiamiamoli così, dicendo che dovevano invece essere obbedienti e stare a quello che diceva la Chiesa, anche se faceva soffrire. Teniamo presente però che negli anni Sessanta, sotto la seconda persecuzione molto forte, ad un certo punto Padre Pio disse a Pagnossini, vai in Francia a prendere Brunato. Lui stesso ha chiamato Brunato in sua difesa perché sapeva che ci voleva di nuovo quel tipo di intervento per poter cambiare le cose. È una sofferenza che ha accompagnato sempre durante tutta la vita Padre Pio e così come le lotte contro il diavolo l'hanno sempre accompagnato. Ritorniamo a Pietrelcina. Cari amici, pace e bene, ben trovati a Pietrelcina, in modo particolare in questa zona del paese, il rione Castello, in Vico Stortovalle, che i devoti, gli amici di Padre Pio conoscono bene, perché qui ha avuto inizio la storia umana di Padre Pio. Da giovane frate sappiamo bene come lui abitò qui, soprattutto in questo luogo, nella Torretta, dal 1909 al 1912. Possiamo dire che in questa stanza così semplice, in questa stanza così nuda, si sono affrontati il bene e il male nella vita di Padre Pio. In questa stanza è sceso sia il cielo, ma è sceso potremmo dire anche l'inferno, per muovere una battaglia spietata, così come tante volte Padre Pio dice nelle sue lettere. Quando noi pensiamo al combattimento con il male, pensiamo al combattimento spirituale, morale, contro le tentazioni. Questo avviene per noi, per ciascuno di noi, ma per Padre Pio e per altri santi anche. Questo combattimento è avvenuto anche corpo a corpo, fisico a fisico, potremmo dire, come una lotta vera. In tante lettere Padre Pio descrive sia a Padre Agostino che a Padre Benedetto come quei cosacci, così li chiamava lui, quei cosacci lo battevano terribilmente. Quindi il primo particolare è che tante volte non era solamente il diavolo, ma erano tanti diavoli a combattere contro Padre Pio. E poi questo combattimento fisico, in una lettera del 1913 Padre Pio scrive che tutta l'intera notte il diavolo, quei cosacci, barba blu, anche un altro modo con cui Padre Pio chiamava il diavolo, lo hanno battuto, lo hanno percosso, lo hanno ridotto insomma come uno straccio. Anche fisicamente la mamma quando sentiva questi rumori, come ogni mamma ovviamente, quando viene fatto del male al proprio figlio, restava terrificata, restava immobile, perché tutte quelle volte che il diavolo scaraventava all'aria il calamaio, la penna, la scrivania e non volevano che questo fraticello scrivesse ai suoi padri spirituali e non scrivesse neanche alle sue figlie spirituali. Le lettere arrivavano bianche, lui non riusciva a leggere il contenuto della lettera, però poi grazie al segno di croce o grazie anche alla benedizione dell'arciprete Don Salvatore Pannullo, ecco le lettere venivano esorcizzate. L'augurio che può scaturire da questi luoghi per ciascuno di voi e che ecco possiate essere forti nel combattimento con le armi che Padre Pio ci ha indicato, la preghiera, i sacramenti, il rosario e ciascuno di noi possa combattere e vincere così come ha vinto il nostro amato Padre Pio. Pace e bene a tutti e buona giornata. Fra Daniele ci ricordava quanto Padre Pio portasse proprio nel fisico i segni di questa lotta e allo stesso tempo portava nel fisico i segni naturalmente della passione. È un santo che associamo alla sofferenza e tanto più ha vissuto sofferenza quanto più forse oggi. Sembra grande quello che è riuscito a donare nonostante quella sofferenza. Sicuramente i segni della passione di Cristo impressi nel corpo di Padre Pio sono il segno dell'amore, dell'amore di Dio. Bisogna entrare in una logica che è la logica di Dio. Noi cerchiamo sempre di eliminare le fatiche, le sofferenze, no? Mentre proprio è entrando nell'accoglienza di queste sofferenze e di queste fatiche che si realizza proprio questo avvicinarsi di Dio all'uomo. Battiture. Ne ha subite tante, no? Si racconta che incontrando questa ragazza che era stata portata a San Giovanni Rotondo. Siamo negli anni 64-65, quindi Padre Pio già anziano, no? E durante la notte si sentirono questi rumori. Lui chiese aiuto, no? Andarono, aveva l'arco sopraccigliare pieno di sangue perché il pomeriggio prima aveva incontrato questa ragazza che, come dire, attraverso il demonio gli aveva detto te la farò pagare. Proprio perché aveva riconosciuto che la lotta che Padre Pio conduceva era proprio quello di liberare le anime da questo possesso, da questa presenza del demonio. La ragazza stessa, una volta liberata, scrisse una lettera dicendo in quel giorno, in quel momento, dopo quella battitura che il demonio ti ha fatto, io sono stata liberata e ora sono un'anima libera. Sul solpo di Padre Pio e delle sue lotte, torniamo a parlare dopo la pubblicità. Fra poco. Numerose sono state le lotte di Padre Pio contro i suoi nemici, ne stiamo parlando con Fra Carlo Calloni, postulatore generale dell'Ordine dei Frati Minori Cappuccini e con Roberto Allegri, giornalista e scrittore e autore, insieme al papà Renzo, di I Moschettieri di Padre Pio, proprio a proposito delle persone laiche che hanno difeso in vita Padre Pio dai suoi detrattori. Roberto, come nasce questo tuo amore nei confronti di questo grande santo? Allora, io sono cresciuto sentendo parlare di Padre Pio fin da quando ero bambino, perché mio padre, giornalista e scrittore, conobbe Padre Pio nel 67 e nel 68, come inviato speciale e per il settimanale per cui lavorava allora, che era il settimanale Gente. E lui è stato il primo a scrivere poi libri popolari su Padre Pio, ne ha scritti 13, tutti pubblicati da Mondadori e quindi è stato proprio il primo biografo... Eccolo qua. Ecco papà. ...che proprio ha fatto conoscere la figura di Padre Pio al grande pubblico. Io quindi sono cresciuto sentendo parlare di Padre Pio e ho finito per considerarlo quasi come fosse un nonno, un parente e quindi è stato abbastanza naturale poi prendere in mano questa eredità e continuare a scrivere libri e articoli con questa differenza. Io Padre Pio non l'ho conosciuto, invidio moltissimo chi l'ha fatto e quindi vado a cercare tutte le persone che lo hanno incontrato e mi faccio raccontare da loro. E papà cosa ti ha raccontato di lui? E papà... La cosa fra le tante principale che mi ha detto Padre Pio è come camminava. Cioè che mi ha detto mio padre come camminava Padre Pio. Cioè aveva i fori sotto i piedi, quindi vederlo camminare e ti si stringeva il cuore, ha detto. Si aggrappava al muro e quando è stato vicino a mio padre che lo ha aspettato davanti alla cella si è aggrappato a lui e ha sentito proprio tutta la forza di Padre Pio, proprio di peso. Questo fa capire quanto male avesse. Perché io ho parlato con tante persone che le stimmate di Padre Pio le hanno viste da vicino. Erano buchi, ti poteva passare il dito nella mano. Tanti mi hanno detto che se mettevi il giornale dall'altra parte potevi leggere. Quindi non erano escoriazioni superficiali, erano ferite profonde che passavano da parte a parte. Quindi immaginiamoci camminarci sopra. Poi Padre Pio se l'è portato in cella, mio padre, e che cosa si sono detti non me l'ha mai detto. Continuiamo a percorrere i passi di Padre Pio andando a Foggia dove anche lì ebbe modo di lottare contro il demonio. Andiamo. Carissimi sulla mia destra potete guardare il convento dei Cappuccini dove Padre Pio si è trattenuto per circa sei mesi e mezzo. Padre Pio il 17 febbraio 1916 ha bussato a questa porta e chi gli è venuto ad aprire è stato il Padre Provinciale, il Padre Benedetto, che era anche suo padre spirituale, il quale prima gli diede il benvenuto e poi disse tu da qui adesso non ti muovi più né da vivo né da morto. E' in questa celletta che ha avuto anche delle colluttazioni con il diavolo. Padre Pio ne usciva sempre bastonato e una volta addirittura nella stanza, in questa stanza, sentirono un rumore come se fosse caduto un bidone d'acqua e trovarono Padre Pio tutto bagnato che raccolsero alcune conche d'acqua. Si racconta che Padre Pio quando mangiava accadeva questo, che lui non mangiava ma facilmente dava ai frati quello che lui toccava. Se non che il Padre Guardiano, il Padre Nazareno, dopo averlo visto più di qualche volta, dice Più, ma tu lo sai che malattia c'hai? E Padre Pio gli risponde, sì lo so, c'ho la tubercolosi. Ma questa malattia, dice Padre Pio, non è per gli altri, è soltanto per me. Fra Carlo, a fronte di tutto quello che stiamo dicendo e che stiamo anche sentendo e di ciò che sappiamo, a fronte di tante sofferenze che ebbe Padre Pio nella vita, uno degli insegnamenti che forse ci arriva immediato, proprio lampante da questo santo, è la forza che bisogna avere nel combattere. Una forza che nel caso di Padre Pio si poggia poi su una fede assoluta. Certo, la fortezza è una delle virtù cristiane, una delle virtù cardinali. E quindi credo che Padre Pio ci insegni davvero questo. Ma come dicevo prima, a non temere che Dio ci è fedele, che ci è vicino, che Dio non ci abbandona. Credo che il messaggio più forte che può darci Padre Pio dentro le nostre piccolezze, le nostre piccole fatiche o i dolori che possiamo incontrare nella vita, sia proprio questo. Avere una fiducia grande in Dio che non ci abbandona. Proprio a Foggia, un vescovo non credeva che Padre Pio fosse battuto così e ci scherzava sopra. E lo fecero dormire accanto alla cella di Padre Pio, dicendo stia attento che sentirà rumore di catene, di battiture. No, ma no, ma no, ma no. E la mattina dopo questo vescovo dovesse andare via di corsa riconoscendo che quei rumori li aveva sentiti. Quindi un dolore fisico che Padre Pio ha subito, però allo stesso tempo aveva questa capacità di vivere in maniera serena, accogliendo queste piaghe, dei piedi, del costato, delle mani, ma accogliendole davvero come un dono prezioso per essere, come ci dice la tradizione, il Cireneo, colui che aiuta Gesù a portare questa passione per l'uomo che Dio ha avuto per noi. Roberto, tu che sei nel lavoro che hai fatto, che avete fatto, insomma, hai messo insieme tante testimonianze di persone che hanno conosciuto direttamente Padre Pio e che hai avuto, hai in famiglia anche qualcuno che può trasmettere una conoscenza diretta del santo. Secondo te qual è la sintesi di tutta la vita di Padre Pio e l'insegnamento che possiamo portare con noi nel cuore? Allora, Padre Pio era un uomo, quindi quello che io percepisco è che lui ha vissuto da uomo, aveva questi segni sulle mani, sopportava la sofferenza e sapeva che era vicinanza con Cristo, però non perdeva il buon umore. Tutti quelli che hanno conosciuto Padre Pio, Padre Marciano, che io ho conosciuto benissimo, non faceva altro che ripetere le barzellette che Padre Pio raccontava, ve le avrà dette un sacco di volte. Quindi questa cosa è straordinaria, cioè un uomo che aveva su di sé questa grandissima responsabilità di riconciliare le anime con Dio, che soffriva fisicamente tantissimo, eppure aveva il buon umore, perché come diceva Padre Carlo prima, è la vicinanza, è Cristo, era vicino, era con lui. E questa cosa è straordinaria, come dice Papa Francesco, il cristiano è uno che sorride, non è uno triste. E anche in questi frangenti terribili come quelli che viveva Padre Pio. E con questo sorriso vogliamo chiudere allora questa chiacchierata di oggi. Io vi ringrazio, grazie a Fra Carlo Callone, grazie a Roberto Allegri. Voglio ricordare i moschettieri di Padre Pio e salutare e ringraziare anche tuo papà per questo.